Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo video e benvenuti al mio canale In questo video faremo lo squishy Ta 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 Allora, incominciamo subito perché è da 3000 ore che sto facendo questo video Quindi incominciamo Prima domanda, i 5 squishy che desideri di più? Allora, i miei squishy che desidero di più sono quelli della Bredou Quelli della Squishy Fan, della Kibru Della iBloom e quelli di Allocchitti sono bellissimi Cioè, a me mi piacciono moltissimo Poi, i video di squishy che odi di più Allora, i video di squishy che odi di più è un po' lo squishy experiment Perché un po' c'è se rovinati gli squishy l'avete pagati Quindi non è che mi piace tanto Il tuo primo squishy Allora Il mio primo squishy era stato una cake roll Cioè, non potete capire, è vecchissima, bruttissima Lascia non perdere Ti piangi di aver mandato qualche squishy negli swap? Allora, io gli swap non li ho mai fatti Se li farei Non lo so Se potessi scambiarne con chiunque Con chi li scambieresti? Con quelli americani Perché hanno degli squishy di marca bellissimi L'ultimo squishy che ho acquistato è acquato Allora, sono tre però Sono questi tre Uno con questo pandino Allora, il pandino Non è proprio uno squishy, però è questa pallina Non mi piace per niente Dura E poi, prima era molto morbida Cioè, guardate È uno squishy Però, non mi piace Il tuo squishy preferito Allora, il mio squishy preferito è questo È troppo bello È Khabibara-san E l'ho preso da Jaguarà L'ho pagato 10 euro E' con il E' con il full strap Poi Hai mai distrutto uno squishy Sì Eccolo qua Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto È durato molto poco Ma perché Da tanto tempo stavo facendo questo video Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Vi do un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao